Ciao a tutti, due parole sul mio libro, Il gioco delle parti, con il quale ho vinto il concorso letterario Emanuele Ghidini nel 2020. Ho ricevuto diversi apprezzamenti da chi ha letto il libro, mi ha fatto molto piacere, e voglio partire proprio da quello che mi scrive una lettrice che credo abbia proprio colto uno dei messaggi che questo libro vuole trasmettere. Tra le altre cose ad un certo punto questa lettrice mi dice, per superare le grandi difficoltà della vita bisogna vedere tutti i nostri mondi interiori, profondi e antichi, accettarli e superarli, come i bambini quando giocano o gli attori quando recitano. Forse se ognuno di noi avesse l'opportunità di cambiare anche solo per un giorno il ruolo attribuito dalla professione lavorativa, dalla società, dalla famiglia, potrebbe certamente comprendere tante situazioni che all'apparenza sembrano insuperabili e invalicabili. Beh, è proprio quello che succede ai protagonisti di questa storia, Isacco e Don Marco. Isacco è un professionista affermato con uno splendido lavoro, una splendida famiglia, che in un attimo, per una disgrazia, si trova a perdere gli affetti più cari, la moglie ed il figlio. Decide di abbandonare la città, il suo mondo di certezze, e di andare in un piccolo paese del paesino della Valle d'Aosta, dove è certo che riuscirà a trovare quella pace interiore capace di placare il suo dolore e dargli la spinta per vivere comunque la sua esistenza. Verso la stessa destinazione sta andando Don Marco, che invece avrebbe fatto volentieri a meno di quell'esilio forzato voluto dal suo vescovo, con l'intento di farlo riflettere sulla sua vocazione. Don Marco è un giovane prete, un prete sui generis, uno di quei preti, come piace dire a me, che amano fare catechismo più sui campi di calcio e durante le pizzate in oratorio. Infatti è molto amato dai suoi ragazzi, ma proprio una ragazza del suo gruppo lo mette in difficoltà, si invaghisce di lui, e mette in giro delle voci false su una loro inesistente relazione sentimentale. I due si incontrano casualmente sullo stesso treno che li porta in Valle d'Aosta, tra i due nasce subito una naturale complicità, si raccontano le loro storie, e quando ad un certo punto Isacco confida Don Marco che per uscire dalla sua situazione ha preso anche in considerazione la possibilità di una vita religiosa, nella scaltra e velocemente di Don Marco nasce una pazza idea. Suggerisce ad Isacco un gioco delle parti. Per un paio di settimane Isacco vestirà i panni di Don Marco e Don Marco vestirà i panni di Isacco. Il giovane prete è assolutamente convinto della bontà della sua idea, la sua filosofia spicciola gli fa dire che se entrambi devono guardarsi dentro, niente di meglio è farlo guardandosi da fuori. A questo punto entra in gioco la Provvidenza, il perfetto regista di tutta questa storia. prenderà in mano le redini del gioco e guiderà Isacco e Don Marco in un'avventura ricca di colpi di scena e risvolti imprevedibili che sono sicuro vi terranno incollati a questo libro fino all'ultima pagina. Il finale poi è un finale a sorpresa che ovviamente non vi racconto e lascio a voi il piacere di scoprirlo. Prima di lasciarvi volevo leggere un piccolo brano di questo libro che credo sia molto importante perché sintetizza quello che è l'azione della provvidenza nella vita, nella storia dei nostri due protagonisti ma nella storia e nella vita di ognuno di noi. Le parole di Don Marco sono un autentico inno alla vita, un messaggio di speranza forte per tutti noi che mai come di questi tempi abbiamo bisogno. Vi leggo quello che dice Don Marco parlando ad Isacco Vedi Isacco, la vita è davvero un miracolo è quel grande e meraviglioso mosaico che anche noi abbiamo contribuito a realizzare con la nostra assurda avventura. A volte ci può sembrare che qualche tessera non sia il posto giusto ma non possiamo fare altro che abbandonarci alla fede. La mano di Dio che hai incolpato per non aver fermato quel SUV e non aver evitato la morte di Mattia e Paola è la stessa che ti ha messo su quel treno per Antagnode è la stessa mano che lo ha rallentato e mi ha permesso di salire è la stessa mano che ci ha guidati nella nostra avventura. So che tutto questo non può cancellare la pena che spesso trafigge il tuo cuore ancora oggi è umano ma posso assicurarti che il giorno in cui potrai ammirare il grande mosaico nella sua interezza quella pena non la sentirai più perché Paola e Mattia saranno lì con te quel mosaico allora ti sembrerà bellissimo un paradiso con questo vi saluto leggete il libro molto bello e un abbraccio a presto ciao